Ciao amici, ho letto una notizia che farà piacere a tutte le amiche negli ANTA che ancora non sono entrate in menopausa e anche alle amiche più giovani che vogliono iniziare a fare prevenzione per non avere sorprese dopo. Che cos'è voglio sapere? È possibile ritardare la menopausa fino a tre anni. Sì, ma va. Lo dice la scienza grazie a una ricerca svolta nel Regno Unito ed è anche facile riuscirci. Ora vi svelo come fare, ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo studio è stato condotto dall'equipe del Nutritional Epidemiology Group del Dipartimento School of Food Science and Nutrition della University of Leeds. Hanno studiato i dati di oltre 14.000 donne inglese raccolti negli anni 90 durante uno studio a livello nazionale sulla salute delle donne inglesi. I risultati sono sorprendenti. Mangiare più cibi ricchi di omega 3, zinco e vitamina B6 ritarda l'ingresso in menopausa fino a tre anni. E quali sono questi cibi? Secondo lo studio i più adatti sarebbero pesce ricco di omega 3 come salmone, sgombro, alici e legumi di tutti i tipi. Facile! Sì, ma c'è di più amiche. Se non vogliamo ritrovarci in menopausa un anno e mezzo prima c'è un cibo da evitare. Per conoscerlo iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Il cibo incriminato è l'abuso di pasta bianca e riso bianco, cioè di carboidrati raffinati. Bene, ora che sapete cosa mangiare potete seguire gli altri miei consigli sulla menopausa che trovate nella playlist in descrizione. Vivi consapevole e vivi meglio! Ciao!